buongiorno a tutti sono ervi bello benvenuti in questo momento di apertura dei nostri cuori delle nostre menti all'infinito yoga è una scienza antica di autorizzazione e realizzazione in dio yoga è una parola sanscritta che significa unicità unione o unità consiste nel riportare la nostra attenzione la nostra consapevolezza a riposare nella natura spirituale essenziale nostra yoga e conoscere la nostra natura spirituale e vivere in armonia con essa oggi andiamo a vedere questi grandi maestri del kriya yoga tutti quelli che hanno potuto perpetrare e convogliare questa grande scienza detta la scienza delle religioni e tecnologia e biotecnologia prima risalendo nel tempo patangeli patangeli vi ricordate ha scritto il famoso yoga sutra di patangeli circa nell'ottocento prima di cristo questo scensato messe per iscritto le grandi verità vediche sotto forma di 195 aforismi sono delle thread sono dei fili sono dei come dire suture delle frasi molto corti che potevano essere memorizzate facilmente dai studenti spirituali e poter essere processate meditate ottocento prima di cristo significa un momento di coscienza molto bassa è il periodo discendente del kali yuga momento di coscienza molto velato lo vedremo in una un podcast dedicato ai yuga grandi periodi queste fasi 24 mila anni penso che sia il podcast 22 nel yoga sutra patangeli definisce già il kriya yoga tapas svadhyaya isvara pranidan quindi lotto disciplina l'introspezione e la resa al divido sono il kriya yoga più avanti nel tempo nel 850 arriva ma avatar babaji babaji è un yogi detto immortale che vive nell'himalaya secondo la tradizione babaji nel 1861 iniziò la hiri mahashaya alla tecnica e alla scienza del kriya yoga alcuni pensano che si incarni tanto in tanto mentre altri credono che sia stabilmente incarnato e ringiovanisca il suo corpo grazie alla pratica yogica detta del kaya kalpa l'avatar significa grande avatar in autobiografia di un yogi parama sivananda spiega lo stato spiritore di babaji al di là delle capacità di comprensione umana esso è inconcepibile una chiarezza totale il mantra che babaji consigliava di ripetere in ogni momento del giorno è om nama shivaya che letteralmente significa om la vibrazione cosmica om e il supremo nome di shiva è anche stato celebrato dalla famosa canzone del gruppo super trump nell'initanta babaji la hiri mahashaya siamo nel 1830 è un discepolo di mahavatar babaji mahashaya significa un sanscrito grande anima riceve l'iniziazione al kriya yoga da mahavatar babaji nel 1861 come scritto nei suoi iscritti l'hiri mahashaya è anche il guru il precettore spirituale di shri yukteswar di cui parleremo appena dopo è un originale parmi le persone santi indiane nel senso che è un capo di famiglia è sposato a una famiglia dei figli e lavora come contabile per il governo indiano britannico dell'epoca la hiri mahashaya vive con la sua famiglia a varashani e non in un tempio in un monastero nelle montagne quindi è veramente un padre di famiglia che ha ispirato tante persone di cui il vostro servitore yogananda nella sua autobiografia di un yogi crea che l'hiri mahashaya è stato scelto da mahavatar babaji per introdurre nel mondo la pratica perduta delle kriya yoga quindi è stato un gran periodo tra l'800 prima di cristo e 1800 era rimasta solo nascosta in questi tempi monasteri nascosti tra i discepoli di lahir mahashaya comprando i due genitori di yogananda e anche shri yukteswar guru di yogananda guru significa insegnante shri yukteswar è stato un astrologo vedico un grande guru un grande maestro è un discepolo di lahir mahashaya e il maestro di paravanza yogananda era un jnana yogi un yogi della conoscenza fu uno dei grandi insegnanti guru indiani più rispettati nei suoi tempi pur avendo una cerchia molto ristretta di allievi a causa della stretta disciplina che esigeva di loro studioso della bhagavad gita che fa parte dei veda e anche della bibbia fondò parte del suo insegnamento sulle similitudini tra la tradizione cristiana e quella hindu nel 1894 su richiesta di babaji raccolse delle parti sue riflessioni in un piccolo libro intitolato the holy science la scienza sacra shri yukteswar affidò al suo allievo paravanza yogananda la mission di portare in occidente la tradizione dell'okriya del kriya yoga che scatenò la partenza per la prima volta di paravanza yogananda negli stati uniti uno dei primi indiani a portare lo yoga in occidente paravanza yogananda il grande cigno detto mukundal al gosha nasce nel 1893 e discepolo di shri yukteswar e maestro di roy jean davis il mio maestro yogananda è stato un bhakti yoga è il yoga dell'amore ha vissuto gran parte della sua vita negli stati uniti ed è lui che ha introdotto per primo gli insegnamenti della meditazione del kriya yoga in occidente negli stati uniti in particolare con il suo libro grazie al suo libro autobiografia di uno yogi nel 1910 divente discepolo di shwami shri yukteswar a sua volta discepolo di lari marcia come abbiamo visto prima nel 1920 arriva a boston stati uniti in qualità di delegato indiano al congresso internazionale delle religioni suo intervento al congresso fu accolto da tutti con grandissimo entusiasmo veramente una rivoluzione quello che stava raccontando e poi è stato pubblicato questo intervento sotto il titolo la scienza delle religioni ne parleremo dei libri consigliati nello stesso 1920 crea l'organizzazione Self Realization Fellowship con lo scopo di diffondere nel mondo la scienza sacra del kriya yoga teneva lezioni di conferenza dove illustrava i precetti dell'antichera filosofia vedica ma sempre integrato con il cristianesimo faceva molto riferimento a Gesù e a San Francesco d'Assisi e riconosceva la grande similitudine tra tutti gli altri saggi e santi di tutte le grandi religioni e tradizioni diede a migliaia di persone l'iniziazione al kriya yoga e non più solo ai sannasi rinuncianti in India entrò in stretto contatto con Mahatma Gandhi e con lui divise gli ideali della resistenza passiva e della non violenza ahimsa Mahatma Gandhi chiese a Paramahansa Yogananda l'iniziazione al kriya yoga negli anni Quaranta 1946 l'autografia di Ono Yogi una delle operazioni spirituali più importanti sulla filosofia indiana che entra in occidente grandi sondanze del libro soprattutto negli anni Sessanta e Settanta con tante connessioni tra la filosofia indiana e il pensiero hippie difatti Yogananda è uno dei personaggi che appaiono nella copertina del disco dei Beatles Session Peppers e degli Yes e anche di George Harrison con questo brano Dojarri San ci pare di Krishna di Rama Alleluia Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Shri Maesri Paramatma Taz Maesri Hare Rama Hare 언 Hare Kreism Hareazioni Hareあり Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Alleluia Alleluia Oh, my Lord Alleluia My sweet Lord Alleluia Oh, my Lord Krishna, Krishna Oh, my Lord Alleluia Oh, my Lord Ururua My sweet Lord Ururuis Oh, my Lord Alleluia Oh, my Lord Uruisha My sweet Lord Alleluia Oh, my Lord My sweet Lord Ururuissa Oh, my Lord pointed up you malaud oh my lord malaud malaud nel 52 al termine di un discorso che pronuncio davanti all'ambasciatore dell'India negli Stati Uniti Roy Gene Davis nasce nel marzo 31 discepolo di Paramahansa Yogananda fino dall'età di 18 anni è anche un mastro mio autorizzato da Paramahansa Yogananda ad insegnare verso la fine del 51 quindi 20 anni con lui come Shaiyogiteshwar era un Ghyanayogi, yogi della conoscenza ha scritto tanti libri molto molto importanti ogni pagina pesa una tonnellata i suoi libri sono stati pubblicati in tante lingue nel 71 ha dato vita al Center for Spiritual Awareness CSA dove Roy Gene Davis insegnava una forma di Kriya Yoga molto legata alle organizzazioni spirituali americane del New Thought portato da Vivekananda nel 1880 Roy mi diede l'iniziazione a Kriya Yoga nel 2009 e poi l'autorizzazione ad iniziare i ricercatori sinceri al Kriya Yoga nel febbraio 2017 fece la sua transizione lascia questo mondo quest'anno in marzo 2019 pace alla sua Alleluia Alleluia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti